Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini, leader della Lega, non si presenta al processo a Torino per vilipendio alla magistratura. Gasparri scrive a Mattarella inquietante negargli il legittimo impedimento. Quindi il senatore di Forza Italia Gasparri, presidente della Giunta delle Immunità Parlamentari, critica il no del giudice dopo il terzo forfè del leader della Lega. Il leader della Lega, per mezzo dei suoi avvocati, aveva chiesto di posticipare questa udienza perché era in corso questa crisi di governo ed è impegnato a cercare una soluzione insieme agli alleati del centrodestra, quindi impossibilità legittima a presentarsi e gli è stata negata questa possibilità. Gasparri scrive come presidente della Giunta delle Elezioni e dell'Immunità Parlamentari ho scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sottoporre alla sua attenzione la vicenda relativa a prerogative dei parlamentari. I Gasparri, senatore di Forza Italia, dice che il riferimento è alla decisione a carico di Matteo Salvini di respingere l'istanza di legittimo impedimento per impegni parlamentari avanzata dai suoi legali riguardo un'udienza a Torino prevista lo scorso 18 gennaio, prevedendo che Salvini fosse impegnato al Senato per la fiducia. I giudici respingono perché dicono che la fiducia era il 19 e non il 18, ma voi sapete che ci sono comunque dei preparativi. Non è solo arrivare la mattina a sedersi lì con la giacca e cravatta e mettersi così a guardare. Naturalmente la fiducia è il 19 ma ci sono dei preparativi ingenti dietro. Dietro questi eventi c'è un lavoro politico assolutamente ingente e impressionante. La vicenda per il quale è stato chiamato Salvini a processo risale al 14 febbraio del 2016, durante il congresso regionale della Lega tenutosi a Collegno nel Torinese. Salvini era europarlamentare, pronunciò alcune frasi sulla magistratura definendole una schifezza. Sono state ritenute offensive dagli organi inquirenti. Intanto è la terza volta che viene spostato questa udienza. La prima volta era per il Covid, poi impegni istituzionali, adesso c'era la fiducia. Il giudice Roberto Ruscello aveva accettato queste proroghe. Però adesso per la crisi di governo non è stato accettato il legittimo impedimento. Quindi il giudice ha ritenuto che essendo il voto di fiducia del 19, allora Salvini avrebbe potuto andare all'udienza fissata il giorno prima e ha detto no al legittimo impedimento, andando avanti con il processo. Gasparri dice, da organi di stampa ho appreso che il giudice Ruscello, nell'ambito di un procedimento penale a carico del senatore Salvini per il reato di vilipendio all'ordine giudiziario, avrebbe respinto l'istanza di legittimo impedimento per impegni parlamentari avanzati. La motivazione del provvedimento negato, dice, sarebbero consistite nel fatto che solo il giorno successivo si sarebbe svolta in Senato la discussione e la votazione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre il 18 il dibattito sarebbe svolto solo alla Camera. Gasparri in questi casi dice, ricordo, che la Corte ha sempre invitato la magistratura ad un ragionevole bilanciamento degli interessi. Non può quindi non apparire inquietante il fatto che l'autorità giudiziaria, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, abbia ritenuto che un senatore, segretario del maggior partito italiano, secondo i sondaggi e leader della coalizione nelle ultime votazioni, che ha raggiunto il numero massimo di consensi, il 18 gennaio fosse del tutto libero da impegni istituzionali. Nell'esame, caso per caso, delle situazioni concrete dei singoli parlamentari richiedenti, dice Gasparri, non può certo ritenersi equivalente la situazione di un senatore leader della coalizione di opposizione con quella di un semplice appartenente alle Camere, il cui impegno ai fini dei lavori parlamentari non può che essere più limitato. Questo è quello che dicevo prima io. Il senatore sconosciuto X, che non deve parlare, che non è leader di partito, ha l'appuntamento il 19, va lì, si siede e ascolta. Differente tra il capo del principale partito e il leader della coalizione, è tutt'altra cosa. Gasparri dice lunedì alle 11.30 si è riunita a Roma la coalizione di centrodestra con la partecipazione del senatore Salvini per deliberare una strategia condivisa con una particolare attenzione proprio alle votazioni del Senato, in cui gli equilibri politici erano più incerti. I padri costituenti ci hanno insegnato che la magistratura non solo deve essere, ma anche apparire imparziale e compito degli organi preposti a vario titolo, ai fini del buon andamento della funzione giurisdizionale, anche e soprattutto con riferimento ai rapporti con i politici, operare nei limiti del costituzionalmente legittimo affinché possa essere fugato qualsiasi sospetto che le autorità giudiziarie non opere i secondo criteri di indipendenza e di imparzialità. Gasparri ha assolutamente ragione. Poi se voi Repubblica è il fatto, diciamo che il fatto è il giornale innamorato dei Cinque Stelle e quindi difende i Cinque Stelle anche di fronte all'evidenza più tragica, la Repubblica invece è un giornale fazioso a tutto campo, nel senso che il suo schieramento a sinistra è palese su tutta la sinistra e chiunque governi con la sinistra, in questo caso i Cinque Stelle. Quindi la Repubblica ad esempio su Salvini dice che scappa dai processi, questo è il senso di Repubblica. Visto che Matteo Salvini il giorno prima del Senato era impegnato in riunioni dell'opposizione per una linea, una strategia comune, il fatto di aver chiesto di posticipare il processo secondo la Repubblica lo fa perché lui scappa dal processo. Ma scappa di che cosa? Se non ci va oggi ci va dopo domani, ci va la settimana prossima, alla fine gli daranno una multa da pagare per aver offeso la magistratura, pagherà 15.000 euro e tutto lì. Quindi non è che sta scappando realmente andare a perdere tempo a Torino per sentire lei ha detto schifezza la magistratura, birbone, deve pagare 15.000 euro, eh? Mannaggia! Sinceramente è più importante quello che stava facendo a Roma di questo, ovviamente. naturalmente è importante per chi reputa la democrazia in un certo modo, per chi ritiene che quello che fa il centrodestra è sbagliato, inutile, anzi il centrodestra andrebbe cancellato, non serve a niente, ovviamente reputa ininfluente quello che sta facendo il centrodestra perché per la sinistra e i fiancheggiatori della sinistra è importante solo che mantengano il potere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.